Ciao, questo è un nuovo video, anche se appena l'avevo comprato gli avevo già dedicato un video a questo libro, ma adesso che sono riuscito magari a finirlo, magari di leggerlo, voglio magari proprio dedicargli un altro video, che magari sicuramente molta gente, magari chi segue, magari Stephen King, magari l'ha già preso e letto, magari gli voglio, magari, dedicargli alle tue affinità, un video, questo qua, di questo libro di Stephen King, Olly, che è uscito all'inizio di questo mese, che è uscito come data d'uscita ufficiale, che è stato il 5 settembre, che adesso sono riuscito anche a finirlo, magari di leggerlo, magari voglio, magari, un video, solamente, a letto, un video, Marei, la tua, Marei finita, Marei, e fare, Marei, anche, non so, Marei, Marei, se per qualcuno, Marei, può essere, Marei, qualche spoiler, però, io voglio, magari più che altro, Marei, parlare un attimo di questo libro, qua, che a me, Marei, come trama, mi è, come si dice, questa qua, confronto Marei, confronto Marei ad altri libri di Stephen King, magari mi è piaciuta un attimino di più, confronto Marei al penultimo, che è uscito di Fairy Tail, che questa, come, come trama, eh, come si dice, che, come trama, del, della storia, un po', un po', un po', un po', un po' di, eh, ci può essere, magari, un po' di mistero dentro, che parla, per cui, altri, che sono in questa città del, eh, mid, midwest, che, eh, che, la, questa, c'è, eh, questa Penny, eh, Penny, da, dal, che chiama l'agenzia per, eh, eh, questa, eh, l'agenzia, eh, eh, che chiama l'agenzia per ritrovare, eh, per ritrovare, ah, sua, per ritrovare Marei, sua figlia scomparsa, eh, come si dice, eh, più che altro, eh, magari, eh, come si dice, eh, che questa investigatrice, eh, eh, deve intagare, magari, eh, che intagra, magari, a questa scomparsa di questa, eh, figlia, eh, eh, capita che, magari, che, eh, ha qualche isolato, dove è scomparsa questa figlia, scopre che, vede che, magari, c'è, c'è una, eh, c'è questa famiglia che, che, nel suo, eh, come si dice, nel suo, nella casa in cui vive, che, in Toria, forse, dovrebbe essere questa qua, che, non dovrebbe, è questa qua, che c'è anche sulla foto, delle, eh, sulla copertina del libro, che, che, nello scantinato di questa casa, questi due, questa coppia di anziani, eh, eh, come si dice, eh, 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 nello scantinato di questa casa, eh, 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 succedono, magari, cose, cose strane, che, questa, eh, eh, alla, eh, a, 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 a che possono essere ma resta è stati loro due che magari adesso non voglio mai dire ma ecco il più di tanto magari perché magari non lo non lo amare ancora finito di magari di leggere che poi come trama ho visto che si prende so la soli di soliti e che mai sempre di steven king che magari le sue storie che nella maniera che magari mette ma come si dice fa come capace ma re mettere lui ma rello svolgimento ma re delle vicende mi piace mi sempre magari è piaciuto che mette sempre quella anche magari nella ne mettere mai così dice nella maniera in cui magari scrive per raccontare certe scene così e si premere e mi è sempre piaciuto come le mette giù magari steven king premare i fatti magari è un po magari mentre magari anche nel legge magari fatti fatti magari un po spaventare così essendo e spero magari solamente che sicuramente lo fanno come gli altri gli altri suoi libri che spero che magari faranno anche la parte magari delle film di questo di questo libro anche se ho sentito che quello che è uscito l'anno l'anno scorso di steven king e fairy tale che entrò a fine di quest'anno devono fare il film di proprio su feritelle spero magari anche in questo quanto magari come vecchio libro entrò mai nel 2024 fanno mai il film anche su magari anche su dedicato questo qua su oli che voglio vedere magari come come faranno il film di questo qua che ho visto che che come trama è molto ma è molto bella che sicuramente mai se fanno mai i film e faranno film e magari molta gente che è appassionata magari di oro così magari lo andrà sicuramente mai a vedere a vederlo come come film che ho visto che ma lei è sempre già sempre la sua sopra coperta sopra che il libro sotto è fatto in questa maniera con solamente la scritta lateralmente che come come maria con il titolo con il termine di che e grazie a questo libro è anche costato anche 21 euro e 90 e niente che magari voglio tipo di di care un video ma rai a lettura mai la lettura finita che magari magari oltre magari può prendere anche un po' di c'è anche un po' di cose magari può prendere magari il genere magari un po' del mistero così perché c'è perché devono risolvere magari questa sparizione di questa di questa magari di questa ragazza proprio come nel complesso come oro ho visto che ci poterà nel complesso magari come trama ho visto che è molto molto bella che magari ho visto che essendo sempre cose magari cose scritte magari da lui ho visto che un po' magari anche se una cosa magari magari la trama è come si dice per i fatti suoi poi è un po' collegato a a a una sempre a un suo vecchio libro che si chiama mister mercedes che ha preso mai spunto su qualcosa su quel su quel su questo libro vecchio sempre suo di mister mercedes come come il libro visto ho visto che magari a me mi è piaciuto a me magari mi è piaciuto mi è piaciuto magari in particolare essendo magari i soliti ho scritti da lui a me mi è piaciuto magari lui magari nel corso degli anni ha provato magari a fare anche anche come si dice di di fantasy e anche magari cose storie magari con persone con dei super superpoteri come Fire Startup e anche magari altri altri libri che con Fire Startup anche se è un libro che aveva fatto tanti anni fa adesso ultimamente e quei tre mi sembra tre anni fa se non sbaglio avevano fatto il rifacimento di quel libro e è fatto magari anche il il film di quel libro libro adesso volevo vedere quando faranno se lo faranno e quando magari il film magari proprio dedicato a questo qua di magari su Olli che commenterà ma ho visto che era molto magari come si dice molto a me magari mi ha piaciuto dopo è anche ambientato magari negli ultimi anni magari nel 2021 perché c'è anche un marei come si dice magari una persona che è malata magari di magari di covid così però come trama magari molto a me mi è piaciuta a me mi è piaciuta e niente quello che poterò morire anche su questo su questo libro di Stephen King l'ho già detto e niente al massimo ci vediamo morrei più avanti con i miei soliti video sui manga o sfumare sui soliti fumetti quelli da magari da edicola e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao